Ringraziamo soprattutto la UIL Toscana che ci ha ospitato in questa bellissima sede e abbiamo portato all'attenzione della platea quello che sono le problematiche principali del sistema dell'università della ricerca dell'AFAM. Primo su tutto il PNRR che porterà una serie di un piano assunzionale molto importante e abbiamo evidenziato che questo piano assunzionale lo prevede a tempo determinato per noi è inaccettabile come è inaccettabile ad esempio la discussione contrattuale che c'è in essere oggi e che porta il contratto come un pezzo che è da portare a conclusione velocemente. Noi invece chiediamo e rivendichiamo un contratto che sia dignitoso per il personale, che sia dignitoso per le lavoratrici e lavoratori dei nostri settori e che tenga conto del fatto che il sistema dell'università e della scuola soprattutto che stanno insieme hanno gli stipendi più bassi del pubblico impiego in Italia e in Europa e questo è assolutamente da rivedere e da rimettere in un sistema che deve valorizzare la formazione e la conoscenza in Italia. Toscana è un punto importante per il paese perché offre sia le scuole di eccellenza sia centri di ricerca importanti come il CNR, il CREA e INDIRE e in questa sfida sono coinvolti tantissimi lavoratori che proprio in questi giorni sono in attesa del rinnovo del contratto punto nodale dello sviluppo del personale e l'università e i centri di ricerca e anche l'AFAM sono centri che saranno chiamati per l'esecuzione del PNRR nazionale, infatti in tutti i progetti che ricadranno sul territorio vedranno coinvolte delle nostre istituzioni e per questo che come UIL siamo presenti negli Atenei e nei centri di ricerca soprattutto per dare una risposta anche alle difficoltà del precariato che in qualche modo dovrà essere riassorbito in questa fase e quindi noi speriamo che possa essere di rilancio e che quindi la UIL sia di riferimento in modo da dare un riferimento ai nostri giovani per entrare in queste nostre istituzioni importantissime che vengono invidiate in tutto il mondo e contemporaneamente avere un rilancio e una ricaduta perché ricordiamoci che anche le imprese e le aziende saranno coinvolte in questa nuova sfida che innanzitutto il sistema pubblico deve poter raccogliere e quindi essere in primo piano ecco, la UIL c'è e anche i nostri settori ci sono